Oggi più di ieri, buonasera da Guazzieri, buon lunedì amici Vi eravate scordati di me? No, sono sempre qui Come sapete il fine settimana per me è sempre impegnativo giocare Quindi non gioco, infatti vi faccio vedere Che non gioco da... Da quando è che non gioco? 0-0-0 A parte il com Vabbè che ho fatto questo qua contro il com che mi ha fatto penale Contro com questo, contro com questo Dal 25 che non gioco No Dal 22 Quindi potete ben vedere Allora saluto tutti quanti Demis, Nico Luca Lele Gruppo Pesfa Club Italia I miei moderatori I miei followers Minamino E niente, iscrivetevi ai canali Che sempre sapete Vi continuo a ripetere Serviva anche il mio E niente Oggi lavoro Questa settimana lavoro giornaliero Quindi Tutta la giornata Sono stato mezz'ora A scommettere con la leggenda da prendere Mi stavo a mattire Mi stavo Ci spacchettiamo qualcosina Ci spacchettiamo Milan e Tottenham E niente E niente Poi se riesco vi porto anche una partita Vi porto Vediamo chi ci da qua Dove andiamo, dove andiamo Dove andiamo Ok 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 C'è uno Pal bueno Regista creativo Niente Non ce ne fotte Niente Converti Opportunista Converti E Incondrista Converti Va bene Allora ragazzi Innanzitutto No Che sto a fare Vabbè Qua giriamo Uno di queste Quelli che ci da ci da Che tanto non ce ne frega un cazzo Anche se mi sono ammattito Non ce ne frega un cazzo Quindi Se mi dai Matteus Sono ben contento Altrimenti Baffanculo Gullit Un altro Gullit Ce l'avevo già Gullit E vabbè Gli diamo quest'altro Subito Gli ho scamato Come ce l'avevo E ci butto questo qua sopra Facciamo subito Rapido Indolore Andiamo Andiamo sulla seconda Andiamo sulla seconda Andro Gullit No Che cazzo è Non riconosco Skulls Non avevo Quindi Può andar bene Diciamo dai Blocca Questa è buona Bene Allora Andiamo qui Qui voglio un giocatore solo Se me lo da Il resto non me frega un cazzo Uno solo Ne voglio Vediamo Ci facciamo un giro qui Vediamo Non è lui È Lucas sicuro No Regulion Mamma mia Fermati Va bene Va bene Va bene Non va bene un cazzo Però Va bene Allora Poi andiamo Milan Vai a profilo Qua Uno barra due giocatori Mi interessano Uno barra due giocatori Quindi Vediamo Ah qui sta Ormai Luigi ha finito Qua Per Gullit Rykard Van Basten Un Poco e niente Un 10 giri 10 massi Al massimo 15 Basta Perché Basta così Quindi Facciamo Sti giri Al Milan E Tottenham Vediamo Un po' Paga con monete Quindi voglio Uno solo Real Varane Casemiro Ce l'ho Il resto Non mi interessa Chelsea Non mi interessa Nessuno Quindi Speriamo Qua c'è Uno che mi dà Non è Sarà tonali Questo Kier No Non lo voglio Non mi interessava Non sono destinato Ad averlo Vediamo Di qua Vediamo Un po' Vediamo Se di qua Me lo dà Zero Mato Kain No Non so Se questo E' più forte Quello che C'ho Io Vabbè Lo vedo Vediamo Se ci Regala Una gioia Ma no Andrò Da Kier E non ci Credo Questo Me ne dà Tre Di Kier Io Già Lo so Questo Me ne dà Tre Me ne dà Non ci voglio Crede Io Tre Me ne dà Di Kier Ma perché Porca di Una Puttana Guarda Sto Cazzo Di Gioco Di Merda Ti Deve Fa Scalare Pure Quando Non Giochi Tu Guarda Ma io Lo so Sicuro 100% Mi Che Gioco Maledetto Qui mi dà Tre Kier Io sto Convinto Al 100% 100% Tre Kier Bravimoci Donna Mia Donna Roma Mai Mai Donna Roma Sto Cazzo Di Gioco Donna Roma Non me Lo dà Mai Non me Lo dà Vaffan Vaffan Cura Guarda Sto Cazzo Di Gioco Madonna Mia Guarda Ma Perché A chi Ce l'hai Dai Sembristi Ma Dai Su Ma Che Cazzo Ci Faccio Almeno Vaffan Cura Dammi Tomori Dammi No Ma Che Cazzo Devo Convertire Chi è Più Forte Di Questo Io Dico Harry Kane Harry Kane Di 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 Giù Per Cazzo Sta Questo confronta, ok, qual è quell'altro, questo, confronta, più forte quello nuovo, vabbè, blocco qua, dove sta quest'altro, sblocca, livello 19, è questo, ma io ne manco, il brain image, dove sta il brain image, punto, cambia visuale, dove sta, c'ho questo, il bene di tutti quanti, quelli che c'ho, c'ho questo, questo arriva al 91, questo arriva al 92, quindi, questo sicuramente è più scarso di quell'altro, ma il brain image, quando cazzo gioca mai, non l'ho fatto mai nella partita, guarda, c'è la madosca, che palle, che palle, guarda, guarda, Donnarumma col cazzo che me lo dà, Donnarumma è vambissata, con il cazzo che gli frega me lo dà, ce l'ho questo io, ma chi cazzo lo compra, niente, non ce l'ho, preguglia, va bene, va bene così, va bene un cazzo, però, vediamo, dai, domanda 2000, perché, è così livellato, ma non l'ha livellato, infatti capì, va bene, va bene, Henry Kane, 3.600, 106.000, avrei livellato questo, almeno questo l'ho livellato, 11.000, niente, poi andiamo per posizione, ciò, dove cazzo sta, andiamo qua, cc, bullet, lo bucciamo sopra, andiamo un po', hanno tre quartisti che cc pure via, coglione, andiamo qua, almeno livellami pure questo, quale cazzo te lo livello qua, 11.000, quanto lo livello no, e va va, questo fa, mng, ma è una gioia, cupon contratto, ok, in elettra, però, che diciamo, finalizzazione, 99, velocità, 84, va bene, va bene, va bene, resistenza, vediamo un po', se ci riesco, vi porto una partita e vi faccio la quinta di fila, se non mi sbaglio, mi ero fermato a 4 di fila, sfide di oggi, online, me ne metci dei, ho fatto, 4.000 più league challenge, ci sta, tanti preparatori, che pescati di merda, guarda, 4.000 per 15, sempre chiudono a 3.000ivity, non mi sia grande, scusate amici una chiamata mamma mia perché mi ha dato queste pescate che si poteva dare pure che si niente donna roma non lo vedrò ormai ormai tottenham volevo sanchez nemmeno a pagarlo va bene stiamo vedendo altri giocatori ma real non mi interessa nessuno benzema ce l'ho cross ce l'ho nace va a cagare varan ce l'ho che non mi cambia due tac trova altro va venice verde ce l'ha corto ce l'ho guarda basta uno spacchetto per manchester city non spacchetterò rodri ce l'ho solo per il mancino di spacchetterò vediamo un po se ce la facciamo mi trovo un avversario due tac fabio smog merito uno di cagliari io quattro di fila mi gioco con pisher mettiamo qua ce la giochiamo così ok fabio smog io come vedete sto a quattro di fila andiamo vediamo un po il terzo modo che c'ho no andiamo chi lo sa mi ricorda non ho visto neanche la valutazione che c'ho vediamo un po oh che è successo ah qui c'è due tac mi sono partito a cazzo guarda guarda non mi ha controllato la palla ma dai su ma che cazzo non mi ha controllato la palla raga no però così no e no che cazzo guarda 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 maledizione 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 guarda non mi ha controllato la palla non mi ha controllato la palla avete visto no madonna mia non ci voglio credere non ci voglio credere raga serio non ci voglio credere c'è un gioco io ce lo so ce lo so lo so lo so me lo immagino non gioco da una settimana fa conto io gioco me lo immagino com'è guarda qua guarda qua guarda 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 zero zero guarda incredibile incredibile ragazzi questo è il primo tiro va giù fa gol fa a Spiricueta due giorni fa messa questo va su fa gol io lo so un tiro fa questo ma faceva gol stacazzo io lo so io lo so io lo so io lo so me lo immagino già l'ho vista questa è una partita già ho vista eccolo là ma è giusto è giusto è giusto colpa mia io già me lo immagino io già me lo immagino cioè non le già me lo immagino l'ho vista eccolo mannaggia la madosca la pinta di fira guarda 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 niente ma che sta a fare ma che sta a fare questi due ma vaffanculo guarda 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 no 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 guarda guarda c'è questo scivola prende la palla guarda mamma mia io poi venitemi a dire che lo script non esiste porca di una puttana maledetta troia venitemi a dire che lo script non esiste fuori gioco venitemi a dire che lo script non esiste poi venitemi a dire questo scivola dalla difesa a centrocampo ha preso la palla ha preso venitemi a dire che lo script non esiste si mi raccomando ditemi che lo script non esiste porca di una troia puttana guarda ma questo riscivola e prende la palla là fuori lui ha capito ha fatto uscire il portiere ma guarda le tacche su sopra sto pezzo di merda ma io pure che che vado a a mettere due tacche questo ma azione gol scivolata ecco scivolata ecco vaffanculo ma vaffanculo va lo script non esiste venitemi a dire che lo script non esiste venitemi a dire questo cosi gioca questo lancio lungo venitemi a dire che lo script non esiste si guarda 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 ha preso lui venitemi a dire lo script non esiste lo script non esiste vi sparo vi sparo vi sparo vi sparo lo script non esiste guarda guarda vai pallone guarda forlano quando corre domattina ma questo basta guarda su basta la sua guarda guarda che cazzo ho dato questo guarda che gioco che c'ha guarda porco guarda voi guardate guardate ecco mannaggia R2 non è il ricordo oh ragazzi ma di che cazzo siamo a parlare guarda guarda io non so che cazzo devo dire guarda ma che palli ha dato ma perché che ci succede guarda questa è due tacche guarda 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 la script non esiste quindi è di fila lo script non esiste non esiste non esiste vaffanculo lo script non esiste script non esiste questo moritira la calcio punizione vabbò calcio punizione ecco calcio punizione 14 di riporto come cazzo l'ha fatti con la connessione che va a 2000 grazie a cazzo lui ha due tacche per me grazie a cazzo 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 a chi ha presa lui fuori gioco cross in mezzo bene 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 non è fallo bello maledizione questo da cazzo va questo come cazzo fa è normale da lui il divano ecco lui basta che fa le scivolate quello che si è persa la palla quello l'ha ripresa ha preso il contropiede com'è possibile vaffanculo questo gioco di merda questo è un gioco di merda perché è un gioco di merda è un gioco di merda tu te ne vai affanculo pezzo di merda laggatore di merda te ne vai affanculo laggatore di merda sto laggatore di merda sto pezzo di merda vieni ma a scrivere coglione pezzo di merda coglione che non sei altro vieni ma a scrivere quello è fallo eh coglione guarda 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 coglione di merda casteddu il cazzo casteddu coglione la quinta di fila la chiappa costum va te ne affanculo va è normale che lui ha fatto 19 tiri in porta grazie al cazzo mi sono volati i giocatori la script non esiste vaffanculo va vaffanculo giustamente guarda questo non vengo a un contrasto per fortuna vaffanculo va due tacche sai grazie al cazzo che ti volano i giocatori a te vaffanculo va vaffanculo va mi ha pure due tacche ho messo quindi da di fila del cazzo va bene ragazzi ci sentiamo ci aspettiamo al prossimo video adesso che lo so dio perdona guazzi gol lo script non esiste poi Grazie.